Tornare a percorrere la Via del Sale, che univa Piemonte e Costa Azzurra, in sella, è una delle suggestioni emerse durante la presentazione al Castello della Rovere del progetto che unisce due comuni, Vinovo e Cagnesurmer, e due città metropolitane, Torino e Niscot d'Azur. Un progetto interrega Alcotra che si inquadra in un rapporto di collaborazione storica fra i due ipodromi che negli anni si è ulteriormente rafforzata anche grazie al circuito delle competizioni internazionali, organizzate in collaborazione fra le due strutture. Il cavallo, le dinamiche gestionali e comunicative legate allo splendido animale, sono al centro di un progetto elaborato nel rispetto del programma Alcotra, quindi migliorare la fruizione dei territori frontalieri italo-francesi, potenziare la collaborazione e inclusione reciproca fra i cittadini francesi e italiani. Il cavallo e l'ipica possono essere i motori di un turismo attento all'ambiente che ha una valenza educativa, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni. Vice sindaco, due ipodromi e due territori che si parlano, cosa ne può scaturire? Una grande opportunità di collaborazione promossa dall'ipodromo di Vinovo e dall'ipodromo di Kensurmer, che apre la collaborazione tra due sistemi territoriali intorno all'economia del cavallo, per costruire un progetto Alcotra, che è un progetto trasfrontaliero, che provi a coniugare sviluppo economico e sostenibilità, ma che credo porterà grande valore aggiunto, non solo da un punto di vista delle relazioni istituzionali ed economiche, ma anche perché consentirà al nostro territorio e a questa zona di mettere a frutto la bellezza e la ricchezza, pensiamo alla palazzina di caccia di Stupinigi. Quindi un'opportunità che vede la città metropolitana protagonista e collaborare nel costruire una rete forte e un dossier vincente. Sindaco, l'ipodromo è da sempre una risorsa economica e sociale per Vinovo. Che cosa può diventare con questo progetto? Nuovo turismo e più consapevolezza anche del bene costituito dal cavallo? Sì, l'ipodromo è comunque una ricchezza per Vinovo, ma noi riteniamo che sia una ricchezza del territorio. Pensiamo che sia veramente limitativo considerare l'ipodromo solo di un comune, quando invece riteniamo che la città metropolitana lo debba in qualche modo adottare, quindi allargare il discorso del territorio. Sicuramente questo è un inizio di una progettualità che noi riteniamo importante, anche grazie al contributo dei privati ovviamente, perché questo può portare effettivamente uno sviluppo sostenibile, quindi un turismo sostenibile, un turismo sul cavallo, che può riprendere quelli che sono alcuni concetti che ormai anche l'Europa sta portando avanti e quindi quello per cui anche l'ambiente sia rispettato e questo turismo che comunque ha un bel pezzo di investimenti all'interno dell'Europa possa portare della ricchezza sul territorio in modo decisamente sostenibile, quindi riprendere la via del sale e quindi tendenzialmente riportare questi collegamenti tra quello che è il parco di Stupinigi, che poi è al confine con l'ipodromo, e inizia quindi a Kenis-sur-Mer. Ma non solo, ma poi tutta la filiera del cavallo è particolarmente importante per quello che parliamo di territorio, perché poi ci sono tutta una serie di allevamenti in Piemonte, che in particolare ancora nella provincia di Torino, che continuano a produrre dei grandi campioni che però non essendo così sviluppato sul nostro contesto devono poi andare a trovare fortuna all'estero. Per fortuna la trovano, però sarebbe molto bello se tutto questo la potessimo proporre anche noi sul nostro territorio qui da noi. Parliamo di promozione turistica, parliamo di promozione delle corse, ma anche di un'idea suggestiva. La via del sale, che univa Piemonte e Costa Azzurra, ripercorsa a cavallo con due punti di partenza, uno a Cagne, uno a Vinovo. E' certamente uno dei punti più fascinosi del progetto. Il turismo equestre è estremamente importante, è estremamente importante anche economicamente, perché pesa oltre 10 miliardi nel resto dell'Europa. L'Italia è un po' un fanalino di coda in questo aspetto. Ma poi quando vai a guardare ti rendi conto che implementare delle cose fascinose, come il ripercorrere la via del sale nei due sensi, come si succedeva nel corso dei secoli, per il commercio e per gli scambi, piace a tutti. Vogliamo essere il punto di partenza? Vogliamo essere un punto di partenza perfetto, idoneo, un contenitore dedicato di totale sicurezza per le persone, per i cavalli e per il turista, che da qui può partire nel corso di settimane, perché chiaramente a cavallo non ci vogliono due ore, ma nel corso di settimane può raggiungere la Costa Azzurra.